Parole forti si sono volate ieri sera fra due naufraghe, fra Cristina ed Elena, che poi è uscita con il televoto. Elena avrebbe detto a Cristina, insomma, la suora che c'entra, la suora Cristina, è morta. Ovvero che, come si presenta davanti alle telecamere, in realtà non è come è nella realtà. Ovvero l'idea che abbiamo noi di una suora, insomma, gentile con le altre persone, altruista, che non dice bugie, non è più, insomma, nel personaggio di Cristina, perché Cristina direbbe delle bugie e non sarebbe quella, diciamo, santa rellina che si mostra davanti alle telecamere. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto, invece, se volete essere sempre collegati con tutto il gossip del momento, cliccate su www.dana-glamour.it. Vi aspettiamo.